Ciao sono Ruggero Pazzaglia il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente e oggi sono qui per ricordarti che l'appuntamento è mercoledì 14 marzo alle 21.30 in diretta streaming qui su Facebook dalla pagina di The Drum Booster appunto per cui ti ricordo di mettere il like sulla pagina di The Drum Booster e di iscriverti al gruppo strumenti per il batterista intelligente solo in questo modo riceverai la notifica dei nuovi video che seguiranno questo e del reminder per la partenza della diretta. Ti ricordo che la diretta streaming è gratuita e che seguiremo esattamente gli stessi esercizi che hai trovato nel videocorso. Se questo video è il primo che guardi e non hai visto la serie di quelli che ho pubblicato precedentemente lascia che ti spieghi rapidamente di che cosa si tratta. Sto preparando questo evento live su Facebook intitolato Sticks and Pad Nights. Eseguiremo un workout di un'ora dedicato esclusivamente allo sviluppo della potenza, velocità e controllo delle tue mani. Eseguiremo degli esercizi denominati anche warm up, esercizi ripetitivi. Non leggeremo nulla da nessun libro. Sono esercizi di allenamento di meccanica che ti aiuteranno appunto ad ottenere una tecnica delle mani molto più efficiente ed efficace. Le dirette avverranno dalla pagina Facebook di The Drum Booster ogni mercoledì alle 21.30 a partire dal 14 di marzo. Per cui se ancora non l'hai fatto metti il like sulla pagina e iscriviti al gruppo Facebook strumenti per il batterista intelligente. In questo modo riceverai le notifiche di nuovi video che seguiranno questo e il reminder che ti avvertirà che siamo pronti per la diretta. Se vuoi ulteriori dettagli entra nella pagina e guarda i video precedenti. Li trovi anche nel gruppo. Ah dimenticavo gli esercizi che seguiremo durante queste dirette le trovi nel portale The Drum Booster all'interno di un videocorso che si chiama appunto Two Hours Workout livello 2, quindi livello medio avanzato. All'interno di questo videocorso troverai i video e gli esercizi che seguiremo durante le dirette. Il prezzo di questo videocorso è bassissimo, è 12 euro e questa offerta rimarrà valida solo per le 12 settimane, quindi 1 euro a settimana se ci pensi, per le 12 settimane che dureranno le sticks and pad nights. Potrai scaricarti i video e i pdf e vedere come seguo io questi esercizi in modo da arrivare alle dirette preparato, giusto per fare un riassunto di quello che ci siamo detti fino adesso. Vorrei aggiungere un ulteriore dettaglio a questo punto. Ogni settimana incrementeremo la velocità degli esercizi fino a raggiungere un miglioramento di almeno 20 punti, quindi bisognerà allenarsi anche durante la settimana fra una diretta e l'altra. Sarebbe meglio che tu continuassi a fare questi esercizi durante tutta la settimana e poi durante la diretta è come se fosse un check per vedere se li stai facendo bene e poi tireremo su la velocità ogni volta che li eseguiremo. In questo modo guadagnerai anche uno schema di studio, un protocollo, cioè come studiare questi esercizi, ma lo vedremo durante le dirette. Ti ricordo che il workout dura un'ora e poi ci saranno 30 minuti di domande e risposte. Io sarò felice di rispondere a tutte le tue domande. Sono qui per questo. Per quanto riguarda l'esecuzione pure semplice degli esercizi, la prima volta partiremo esattamente dalla velocità di esecuzione che trovi nei video. Quindi cerca di arrivare preparato alla prima sticks and pad night, quella del 14 marzo alle 21 e 30, preparato a quella velocità. Per questo motivo io ti invito fin da subito ad andare a prendere gli esercizi e di cominciare a lavorarci sopra perché quasi sicuramente non li conoscerai perché sono esercizi che ho compilato io stesso negli anni. Per questo scopo erano prima per me e poi li ho condivisi con tutti i miei studenti. Per cui se subito non riesci a farli, rallenta la velocità e lavoraci in modo da arrivare a mercoledì sera pronto, ok? Altrimenti arrancherai, non riuscirai a starci dietro, mi raccomando. Alcuni non sono così semplici come sembrano. Per cui ti ricordo che il link per andare a prendere gli esercizi lo trovi qui sotto al video e per rimanere aggiornato sulle novità metti sempre il like sulla pagina e iscriviti al gruppo. E adesso ti saluto e ti ricordo che la durata della sticks and pad nights è di 12 appuntamenti e sarà un po' come andare in palestra ad allenarsi, solo che come per la palestra quando ci vai da solo magari è un po' noioso, invece avere qualcuno con cui fare gli esercizi di fronte, il tuo personal trainer di fronte a te che segui gli stessi esercizi che fai tu è una cosa che piacerebbe avere anche a me, ci andrei anch'io in palestra così. Per cui io ti abbraccio e ci vediamo nel prossimo video e ti ricordo sticks and pad nights, mercoledì ore 21 e 30 diretta su Facebook. Ciao!